L'associazione Pro Vomano Scerne ha lanciato un nuovo appello al Comune di Pineto per chiedere interventi urgenti sulla rete di scolo della frazione di Scerne, necessari a prevenire allagamenti e danni al territorio in caso di forti piogge. La preoccupazione riguarda in particolare la foce del Vomano, dove l'incuri e la vegetazione fitta ostacolano il deflusso naturale delle acque. L'associazione sottolinea anche l'urgenza di garantire una manutenzione costante per evitare i rischi idrogeologici e proteggere l'area da possibili emergenze. Noi ci siamo alluvionati nel 2009, tre volte, nel 2011 e nel 2012. Praticamente non è un problema che noi possiamo attribuire soltanto al cambiamento climatico, perché ovviamente c'è il cambiamento climatico, però se non si prendono opportuni provvedimenti non possiamo dare soltanto colpa al cambiamento climatico. Abbiamo questa sensazione che il Comune, ma anche l'ANAS, prende un pochino sotto gamba la questione, in quanto questi lavori, noi abbiamo il ponte, sotto quelle arcate, sono aperte solo tre arcate, tutto il resto sono tutte intasate, quindi quelle devono essere comunque liberate. Se l'ANAS non fa il lavoro, ovviamente il Comune deve pure contribuire a sollecitare, a organizzare questo lavoro, perché se no non viene mai fatto e quindi abbiamo sempre questo problema. L'associazione ha esteso l'appello anche all'ANAS, chiedendo la pulizia delle arcate del ponte stradale sul fiume Vomano e al Consorzio di Bonifica del Tronto, Tordino e Vomano per la manutenzione del canale 3, che svolge un ruolo cruciale nel proteggere Scerno e dalle acque che scendono dalla collina retrostante. Il problema degli allagamenti che ci sono, sono dovuti più che altro alla cattiva manutenzione. Basta poco, non servono le grandi opere, ma piccole manutenzioni periodiche per ovviare. Le problematiche sono quelle di ripristinare un dosso che è stato aperto tempo fa, molto tempo fa, per urbanizzazioni e c'è identificazioni e questo è il problema da ripristinare, da ripristinare in maniera anche urgente. Le piccole manutenzioni nel paese sono importantissime. Prevenire è meglio che dopo curare.